buondì e benvenuti nel mio sgabuzzino adesso vi spiego il motivo di questo video qua volevo fare un'intervista doppia con mio nonno quindi sotto questo video qua vi lascio vi lascio commenti scrivete qualunque domanda voi vogliate fare a me ea mio nonno risponderemo parallelamente scrivete nei commenti tutte le domande che volete farmi così risponderò io e mio nonno in maniera parallela mi raccomando di non usare parole volgari perché sennò youtube le toglie e io non le vedrò neanche il momento farò uscire altri video e dopo quando ci saranno sufficienti domande per poter rispondere in maniera ad avere un video abbastanza cicciotto farò uscire questo video qua quindi che altro dire sono rinchiuso qua dentro da un po oggi ho mangiato qua ho montato la lampadina perché mi esplosa la lampada ho trovato l'inquadratura giusta da fare e ho dovuto smontare una porta ormai vivo qua dentro basta di altre novità ho iniziato un corso e sono ufficialmente in bancarotta perché non ho più un centesimo il mio computer ormai sta morendo e anche lì dovrò trovare delle soluzioni perché non va più è lento fa rumore e si impalla e niente signori buona domenica e mi raccomando scrivete qua sotto le domande e risponderò a tutte buona domenica ragazzi guarda che cosa ho fatto guarda che cosa ho fatto scusami ma dai grazie a tutti